buongiorno ragazzi martedì mattina martedì mattina pronti per andare al business party milton che è una zona industriale direzionale con uffici e aziende e abbiamo già caricato il furgone vediamo furgone carico mi accingo ad agganciare la nostra polentina roulotte baileys del 1969 comprata su ebay a 510 sterline e poi convertita in quello che vedete ci faremo un video sulla nostra polentina street food pronti andiamo ma chi c'è a milton park che ti trucchi sempre a che taschkin che io No, 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 no. Come avrete ben potuto intuire siamo giunti a destinazione, Milton Business Park, aiuto Carla ad allestire tutto, a preparare il cibo che a mezzogiorno inizierà ad arrivare alla gente. A più tardi ragazzi, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E aspettando i clienti a Milton Park, proprio qua dietro c'è un piccolo posto dove si può fare ginnastica. Pausa pranzo per noi, fish and chips, dai nostri colleghi di fianco. Bolognese ragu con polenta chips, ok? Enjoy! Ciao! 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 Lunchtime finito! Sono le due di pomeriggio, la gente ormai è tornata negli uffici, carichiamo il furgone e andiamo a casa. Ovviamente la nostra giornata non finisce qui, ci sarà da lavare e da cucinare qualcosa per il mercato di domani, ma questa è un'altra storia. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao mistakesı! Ciao 2005di,coluppare la perda il flacco con cellulope. Ciao! Ciao!